Buona giornata amici da Difano TV, oggi è 9 febbraio 2023, siamo giovedì nel mezzo della settimana, il tempo continua a essere perturbato, fa freddo ma ancora non piove e soprattutto nella nostra provincia ancora non nevica, anche se qualche spruzzatina comincia a vedersi nelle alture degli appennini, degli pre-appennini. Dunque la nostra rassegna stampa di oggi ha un ospite, ha un ospite e ve lo presento subito, è Etienne Lucarelli, Assessore al turismo e alle attività produttive del comune di Difano. Buongiorno Assessore, ben svegliato e ben trovato per commentare le notizie che oggi pubblicano i giornali, il resto del Carlino e il Corriere Adriatico con cronaca locale. Però noi passiamo sempre attraverso l'almanacco del giorno e vediamo che oggi si festeggia Santa Pollonia. Chi era Santa Pollonia? Ebbene era una vergine martire e perì sotto l'imperatore Decio, fu condannata, pensate, al rogo dopo essere stata torturata. Durante le sevizie le furono rotti tutti i denti e per questo è considerata la protettrice contro il mal di denti. Quindi se vi fa male qualche canino, qualche molare, fate una preghiera a Santa Pollonia e può darsi insomma che una grazia vi arrivi. Ed ora vediamo anche le previsioni del tempo. Le previsioni del tempo, la situazione ecco la grafica che appare sulla tabella. Le previsioni dicono che ci sarà neve al mattino, ancora non si vede, fino in pianura e localmente sulla costa meridionale in regione. Tra pomeriggio e sera fenomeni in esaurimento e poi saranno anche le schiarite. I venti ispireranno con una tensione media da nord, mentre nell'interno da nord-est. Le temperature sono in calo e si aggirano tra i 2 e i 5 gradi il mare emosso. Ebbene detto questo, apriamo subito il giornale, il Corriere Radiatico sulla pagina di Fano. Ecco il titolo di apertura. Si parla di consiglio comunale. L'altro giorno si è svolto il primo consiglio comunale dell'anno. Siamo in esercizio provvisorio. Ancora l'amministrazione comunale deve approvare il bilancio preventivo per il 2023 e quindi abbiamo degli investimenti limitati. Insomma possiamo investire solo un dodicesimo di quello che era l'anno scorso. È vero Assessore? È vero così anche se siamo in dirittura d'arrivo perché credo che il prossimo consiglio comunque andremo in approvazione anche del bilancio così riusciamo ad avere un esercizio che ci permette di fare tutte le spese come nell'ordinaria amministrazione. È uno dei più grossi investimenti che si appresta a fare l'amministrazione comunale e quello sulla cura e la manutenzione delle strade. Argomento che è stato portato alla ribalta nell'ultima seduta del consiglio comunale da una interrogazione della Lega. È stato Luigi Scopelliti che ha posto in evidenza alcuni problemi. Assessore, ci sono alcune strade che non sono né rilevanti per l'incidentalità e non sono nemmeno importanti per la mole di traffico, però sono ridotte al pari di tante altre un colabrodo per quanto riguarda buche e avvallamenti. E queste strade vengono sempre messe in coda alle priorità di intervento. Perché? Perché ovviamente sono più importanti le altre, ma alla fine anche queste dovrebbero essere curate. Per esempio Scopelliti ha fatto il nome di Via Liguria, Via Dolomiti, Via Lazio e Via della Resistenza al Poderino. Insomma anche l'estetica fa turismo, diciamo così. Insomma un turista che viene a Fano vuol vedere anche le strade curate. Pensa che l'amministrazione comunale faccia abbastanza in questo senso? Sicuramente stiamo facendo in questo momento un lavoro importante. Abbiamo fatto un piano asfaltature e devo dire che sono previste tantissime economie proprio dedicate alla cura delle strade, ma anche in generale alla cura della città. Purtroppo devo dire che non è un periodo facile per le amministrazioni pubbliche perché siamo arrivati a un periodo dove bisogna star dietro ai fondi del PNRR e cercare di intercettare tutte queste risorse. Abbiamo una situazione storica nazionale e internazionale che ha cambiato totalmente i prezzi delle materie prime e quindi gli appalti che sono stati già assegnati purtroppo non permettono di iniziare i lavori perché abbiamo l'aumento dei costi e quindi molte aziende ci chiedono appunto di rivedere i costi. Una serie di problematiche ovviamente che non devono andare a toccare i cittadini, che non dobbiamo raccontarci. Sì, i cittadini devono essere a conoscenza di quello che succede ma compete noi poi a riuscire ad agire. Stiamo sussistemando tutte queste cose, quindi stiamo rivedendo i prezzi per poter permettere alle ditte di fare i lavori e devo dire che il piano asfaltature insomma realizzato dalla Giunta ma soprattutto dal sindaco Massimo Seri, dall'assessore Brunori, è un piano asfaltature che permette sia di andare a sistemare le stade principali perché poi dobbiamo dircelo, sono quelle di grande percorrenza, quelle che aiutano la grande viabilità che devono essere assolutamente a puntino per permettere alla città di vivere bene e poi ovviamente ci vuole un'attenzione ma su questo noi stiamo cercando di mettercela più possibile anche alle seconde strade, quelle che arrivano nei quartieri, quelle che permettono ai cittadini di arrivare proprio sotto le case e stiamo facendo diversi lavori anche nei quartieri. Devo dire sia grazie alle asfaltature dirette che stiamo facendo noi, sia ai lavori dei sottoservizi che sta facendo Aset per la sistemazione della città alle quali solitamente seguono la sistemazione delle strade e quindi le asfaltature. Quindi devo dire che il piano asfaltature di questo anno è veramente molto cospicuo ed avendo sistemato tutte le cose arriveremo veramente in tantissime strade. Adesso è inverno, insomma le asfaltature sono sospese per questioni climatiche, poi a marzo si dovrebbero riprendere i lavori e c'è anche tutto un blocco a Sant'Orso che deve essere asfaltato via Galileo Galilei, via Bellandra, via Fossa Sant'Orso, insomma sono strade che meritano soprattutto una cura più assidua perché sono ridotte veramente molto molto male. Un altro argomento che ha tenuto banco nell'ultima seduta del Consiglio Comunale è stato quello della tratta ferroviaria pista ciclabile metaurense, un ordine del giorno firmato dalla Giacomoni che è la capogruppo del Partito Democratico e dal consigliere fumante. Un ordine del giorno che ha ottenuto sui voti della maggioranza, dobbiamo dire l'opposizione si è espressa in maniera contraria. Che cosa dice quest'ordine del giorno? Sensibilizza anzi sensibilizza la Giunta a chiedere alle ferrovie il permesso di realizzare la pista ciclabile proprio sui binari della ferrovia, finquanto la ferrovia non sarà ripristinata. Assessore, qual è la sua posizione? So che la sua posizione è un po' diversa mi sembra però... No, no, io su questo non ho nessun problema anzi ad accogliere quello che ha detto la Giacomoni. Noi abbiamo un tema che pensiamo di poter riportare la ferrovia in un punto dove insomma sappiamo che è stata dismessa per un problema di mancata funzionalità della ferrovia stessa. Negli ultimi tempi che la ferrovia era in funzione addirittura facevamo un biglietto ma per un problema proprio di tratta di come è composta la ferrovia della sua utilità e quindi noi crediamo proprio che lì un progetto innovativo che possa guardare anche magari ad un trasporto leggero con la fiancola ciclabile oppure la possibilità come dice la Giacomoni di realizzare una ciclabile che ci porti attraverso i vari quartieri della città e quindi finalmente a far diventare la nostra città anche più sostenibile dal punto di vista aviario è sicuramente un sogno che questa amministrazione ha. Pensiamo che avere una ciclovia vera e quindi creare una ciclovia adriatica con le varie ciclovie a pennello che ci portano verso gli appennini può essere un progetto che guarda tutta la Regione Marche e che può portare tanti turisti ecco perché dobbiamo pensare anche nella nostra zona come avviene nelle altre province ad un progetto vero di ciclovia verso l'interno in questo momento il progetto è un po' frazionato perché noi oggi insieme alla Regione abbiamo previsto un altro percorso ma un percorso che passa attraverso i quartieri direi non proprio una ciclovia e più insomma una ciclabile urbana quindi sicuramente qui serve maggiore unione unione di intenti da parte dei vari enti locali e regionali per pensare a un progetto di crescita infrastrutturale della nostra provincia importante ecco quindi vanno risolte sicuramente delle questioni una su tutte potrà mai essere realizzata una ferrovia in quel tratto con tutte le difficoltà che sappiamo sapendo che nel tempo abbiamo dismesso alcuni parti di rotaie per costruire strade sappiamo che ci sono attraversamenti quindi potremmo essere più realizzata una ferrovia lì magari se proprio vogliamo pensare una ferrovia che ci collega con Roma magari dovremmo prevedere un'altra soluzione perché poi le cose cambiano nel tempo quindi veramente serve fare un ragionamento molto strutturato devo dire che oggi pensare ad una ciclovia che ci porti verso l'interno visto come sta cambiando come si sta strutturando il turismo come si stanno strutturando le città dal punto di vista della viabilità sostenibile è un progetto molto valido e interessante c'è anche una dichiarazione del sindaco pubblicata su questo articolo di spalla del Corriere Adriatico il sindaco Massimo Seri che in consiglio comunale ha detto la riattivazione avrebbe la riattivazione della tratta ferroviaria avrebbe costi elevatissimi non risulterebbe economica e comunque quella linea resterebbe scomoda per gli utenti questa è un po' la posizione appunto del sindaco per Seri che però ha anche difeso la scelta di condividere il nuovo tracciato della ciclovia del metauro non si buttano via 4 milioni ha dichiarato il sindaco perché insomma sono soldi che arrivano dalla regione giudicando questa iniziativa dei democrat complementare al riuso del sedime ferroviario insomma utilizziamo questo sedime fin quanto il governo non adesso il governo ha questo studio di fattibilità che ancora giace al ministero però insomma quando poi le cose si riattiveranno e la tratta se si farà si farà allora si cambierà modo di pensare devo dire che in questo momento è stata una scelta molto intelligente da parte della giunta perché comunque cercare di appoggiare le scelte e ciò che c'ha le possibilità che c'è dato la regione Marche quindi di realizzare con quelle economie una ciclovia di collegamento comunque anche tra i vari quartieri di utilizzare quell'economia una scelta intelligente ovviamente poi dobbiamo avere una visione più ampia rispetto anche a quello che riguarda quel tratto ferroviario. E poi è bello anche un po' sognare no per quanto riguarda il futuro perché se non si sogna insomma non si realizza poi nulla. Dicevo un altro evento importante per quanto riguarda il turismo è questo che evidenzia il Corriere Adriatico in apertura sulla seconda pagina di oggi. Si parla del Festival Passaggi, la vertigine dei libri definiti tema ed eventi 2023. La vertigine dei libri è il titolo, il tema che proporrà il Festival quest'anno. Un Festival che avrà diversi palcoscenici della città. Abbiamo ovviamente il nucleo principale che è Piazza 20 Settembre ma poi ce ne sono tanti altri. La chiesa di San Francesco, il convento, il chiostro delle Benedettine poi altre sale private, ci sono anche dei bar, delle sale da te. Abbiamo diversi, la Memo, insomma sono diversi palcoscenici. Tutta la città sarà coinvolta da questa manifestazione che avrà luogo dal 21 al 25 giugno prossimo. È uno dei fulcri importanti dell'offerta turistica a Panese, Assessore? Ma Passaggi, insomma ha fatto dieci anni lo scorso anno, quindi questo è l'undicesimo anno, ha fatto una crescita in questi dieci anni incredibile perché ha un'intelligenza nell'organizzare un evento che diciamo è per tutti. Ha veramente diverse sedi, tante, coinvolge tutta la città. In quei giorni la città diventa piacevolissima da scoprire perché oltre alle bellezze che si trovano in ogni angolo si trovano anche delle sedi con delle presentazioni dei libri che accontentano poi tutti perché parliamo di tecnologia, parliamo di cultura, parliamo di attualità. Ci sono ospiti diciamo che possono raccontare di più la storia e la cultura della nostra Italia ma ci sono ospiti anche più popolari che sono adatti anche ad un pubblico più giovanile. Ricordiamo qua la presenza di tanti anche cantautori che in un qualche modo nella sede del Pincio e quindi nella parte dedicata fuori passaggi più giovanile hanno saputo accogliere un grande pubblico e devo dire che le persone stanno dando una grande risposta a questo format che si sta delineando un format forte per la città di Fano e quindi credo che su questa manifestazione dobbiamo unirci insieme. Anche l'anno scorso c'è stato un supporto importante della regione e credo che insomma anche quest'anno stiamo dialogando con la regione per avere lo stesso supporto. Noi come amministrazione comunale anche dal punto di vista del sostegno sia economico sia organizzativo perché comunque dislocare... è un momento in cui... non dico una minaccia ma insomma però... Belfiori che è il direttore artistico di questa manifestazione voglia trasferirla a Pesaro perché insomma Fano non trovava proprio la location adatta dal punto di vista non dico di palcoscenico ma di organizzazione però insomma questa cosa è stata scongiurata mi sembra no? Ma non so se c'è stata mai la vera intenzione di trasferirlo a Pesaro certo che ogni tanto è giusto che gli organizzatori si facciano pungenti nei confronti delle amministrazioni pubbliche per cercare di superare le difficoltà che obiettivamente una manifestazione come questa ha insomma con Giovanni... Poi la forza è il grande volontariato che la sorregge... Con Giovanni e con l'organizzazione ci sentiamo costantemente le difficoltà oggi per organizzare delle manifestazioni in generale sono enormi che guardano alla sicurezza che guardano la possibilità di vivere in tutta tranquillità una manifestazione devo dire che si sta facendo un grande lavoro in questo caso grazie al coinvolgimento del volontariato se dovessimo pensare una manifestazione così strutturata tutta da aziende professionali probabilmente i costi triplicherebbero non ci sarebbe la possibilità di fare manifestazioni ma questa è un po la caratteristica della città di Fano è la vera forza della città di Fano il fatto che si fa più comunità e quindi tende a lavorare insieme su tanti vari progetti e tende a fare cose bellissime con la forza delle persone che sono un valore enorme che non traduciamo in economia ma tradiciamo in forza della città data dalle persone. Assessore Lucarelli siamo in carnevale in primo periodo di carnevale domenica scorsa è andata in scena il primo corso mascherato dopo due anni insomma che non si riviveva non si riviveva quella euforia quella passione che determina il carnevale di Fano bene la prima hanno scritto i giornali ed ora aspettiamo una seconda sfilata sperando nel bel tempo e ci sono poi anche tutte una serie di manifestazioni collaterali che rendono vivo questo periodo che giudizio ha della sfilata di domenica scorsa è stata una sfilata beh non mi arrischio a dirle un a chiederle un commento sulla qualità dei carri perché ci sono dei commenti controversi quello che quello che li riassume è questo i maestri carristi fanesi sono veramente dei grandi artisti ma se avessero avuto qualche soldino in più forse avrebbero fatto delle opere più maestose non dico di maggiore qualità perché quelle che hanno fatto erano di grande qualità solo che rispetto ai carri di una volta sembravano un pochino vuoti e quindi questo dimostra come le risorse finanziarie per realizzare dei carri veramente belli confrontarli con viareggio è impossibile a questo momento sarebbero fatto delle cose ancora maggiori cosa ne pensa allora ho un'esperienza ormai decennale negli eventi riesco riuscirei ad entrare in tutte le bellezze criticità di una manifestazione come questa e quindi ci sarebbe un po da parlare di tutta la mattinata io oggi è un po quello che ho dichiarato pensare che dopo due anni di stop con una macchina così imponente importante con tante persone che vi lavorano che devono realizzare carri che devono movimentare carri che devono fare spettacoli intorno ai carri che devono gestire una completa manifestazione tutto tutte le persone che si occupano di sicurezza e oggi quando si parla di sicurezza non è facile se pensate che l'ultimo l'ultima settimana è stata passata tra le prefetture questure per comitati di ordine sicurezza pubblica ancora oggi abbiamo una riunione quindi considerando tutto questo devo dire che è stata una bellissima domenica perché è andato tutto liscio siamo riusciti a ritornare a sognare quello che è il carnevale di fano con via le gramsci piena quindi io oggi mi sento soltanto di fare dei complimenti a tutte le persone che ci sono dedicate perché sono lo sforzo che si fa poi se dobbiamo guardare l'altra faccia della medaglia sappiamo che oggi il carnevale delle criticità e quelle criticità sta anche a noi come amministrazione anche a me personalmente insieme agli altri colleghi di giunta correggerle delle criticità ci sono e sono nella struttura del dell'organizzazione del carnevale che purtroppo non è più consona alle aspettative quindi non alle persone che la partecipano proprio alla struttura come composta perché un'associazione culturale non può più gestire una macchina di così complessa ci vuole una struttura adesso ci stiamo ragionando anche in amministrazione insieme all'ente carnevalesca quale può essere la struttura idonea e poi sicuramente il nostro carnevale ha due specificità più importanti a parte il contorno a parte tutti gli eventi collaterali che poi sono importanti per far vivere la città per portare le persone i giorni prima perché devono dormire qua per fare in modo che il carnevale porti economia sulla città quindi serve tutto però le principali caratteristiche sono i carri allegorici ed il getto queste sono le caratteristiche che noi dobbiamo raccontare in tutto il mondo per portare le persone a vivere il carnevale di fano e su questo dobbiamo lavorare per migliorare organizzazione carri allegorici e getto ma devo dire questo ci sarà tempo oggi dobbiamo dare la possibilità alle persone che ci stanno lavorando di lavorarci bene di impegnarsi come stanno facendo devo dire quindi e quindi viva il carnevale vivremo appieno anche le prossime due domeniche il carnevale poi è una manifestazione che deve deve avere degli effetti economici sulla economia della città e quindi vediamo come le manifestazioni collaterali fatte prima della domenica possono attirare turisti e quindi incentivare le presenze negli alberghi questo è anche il compito dell'amministrazione ed ora parliamo del codma parliamo del codma perché vediamo che ieri l'assessore alle infrastrutture e lavori pubblici della regione marche francesco baldelli ha presentato l'inizio dei lavori per la ristrutturazione della palazzina centrale del codma quella che la regione ha dato in uso a diverse associazioni di fano e del comprensorio dopo l'asfaltatura di tutto il piazzale qui si rifarà il tetto si rifaranno le rifiniture ci saranno la ritenteggiatura di tutto si farà la pavimentazione insomma un intervento di un milione 350 mila euro della regione e il codma assessore acquista sempre più un rilievo multifunzionale può essere adatta a moltissime funzioni è stato il centro vaccinazioni è stato il mercato è stato un centro espositivo mostre al momento c'è una mostra di una ditta canadese che produce macchine agricole di grande spessore di grande attrazione quindi una valorizzazione anche dal punto di vista turistico di questa manifestazione mi ricordo che nei casi di emergenza è stato anche un grande parcheggio dei tir che hanno lì stazionato quando c'era la neve insomma è veramente una struttura composita e preziosa per fano come si intende sfruttarla ma il colbe innanzitutto è una posizione molto strategica no all'uscita dell'autostrada all'uscita della superstrada quindi in un punto dove prende facilmente tutte le persone che arrivano sia dall'entroterra sia in arrivo insomma lungo l'adriatica e quindi lungo l'autostrada sede anche della protezione civile sede della protezione civile per cui in tutti i momenti di emergenza lì la protezione civile può fare punto d'accoglienza per tutte le persone che hanno difficoltà ricordiamo appunto con la neve che i mei tir uscivano e lì hanno trovato un punto di prima accoglienza senza arrivare nella città pensate se non ci fosse questi i tir che escono dall'autostrada e arrivano nel centro storico quale caos può diventare da noi queste cose non succedono perché abbiamo una protezione civile molto valida che in questo luogo fa un punto di prima accoglienza un mercato ortofrutticolo con tanti grossisti dell'ortofrutta devo dire che negli ultimi anni questa cosa del grossista dell'ortofrutta i box sono a loro dedicati si stanno riducendo sensibilmente quindi ci sono ancora diversi grossisti ma su diversi box disponibili ne occupano soltanto sei ed è un'area che sta diventando molto adatta alle fiere alle attività fieristiche alla valorizzazione dei prodotti tipici soprattutto dopo che è stata chiusa Campanara perché tutte le attività che erano a Pesaro ci stanno chiedendo spazio per potersi rappresentare e vengono a farlo a chiedere lo spazio quindi ultimamente adesso nell'ultimo anno dopo il covid non è stato fatto più fanogeo ma prima si faceva la manifestazione riguardante l'agricoltura c'è la mostra a scambio delle auto e delle moto d'epoca Sapore e Romi da autunno sempre all'interno adesso abbiamo cominciato con la mostra nazionale ed internazionale Canina con Enci e tutta una serie di attività che guardano delle rappresentazioni sia che guarda il nostro cibo e la gastronomia sia altre rappresentazioni e devo dire che si sta definendo come un'area fieristica e di valorizzazione economica e dei prodotti tipici veramente molto interessante ecco perché strategica visto che la Regione ci sta facendo i lavori ricordiamo quello è uno stabile della Regione però tutta una parte diciamo la parte del fungo dove c'è la sede della protezione civile e dove hanno sede un'altra serie di associazioni propedeutiche al lavoro che si sta facendo proprio in quello spazio insomma quella parte lì è comunale quindi è gestita da noi credo anche in questo caso che ci debba essere una sinergia ormai è ora di far fare il passo alla struttura bisogna capire qual è la visione futura che gli si può dedicare e credo che un'area fieristica in quella zona sarebbe molto interessante vediamo anche l'apertura del resto del Carlino oggi si parla di una difficoltà burocratica il rinnovo del passaporto è un'impresa anche a Fano l'appuntamento ebbene chi vuole rinnovare il passaporto deve chiedere l'appuntamento al commissariato di Fano e guardate la sorpresa l'appuntamento il primo posto utile è il 20 dicembre 2023 alle ore 12 questo è un esperimento che ha fatto il giornalista la giornalista anzi del resto del Carlino Tiziana Petrelli che ieri ha provato a chiedere un appuntamento appunto per il rinnovo del documento ci vuole un anno per organizzare un viaggio e la procedura è molto macchinosa le agenzie soffrono e dicono ci sono molti disagi a questo riguardo Assessore lei si occupa dei turisti che vengono a Fano ma ci sono anche i fanesi che fanno turismo fuori Fano anche questo è un problema insomma che caratterizza la nostra città ma soprattutto è un problema di ordine pubblico perché l'organico del commissariato soffre e lo vediamo soprattutto per i controlli che si fanno in città controlli che devono rendere Fano sempre più sicura perché la sicurezza è uno degli elementi di attrazione turistica più importanti ne concorda si ne concordo intanto è l'occasione per far fare le vacanze a Fano insomma anche a coloro che sono nella zona e quindi per non farli partire per non farli partire no a parte gli scherzi ovviamente è una battuta no devo dire di sì devo dire che io non posso che ringraziare le forze di pubblica sicurezza perché hanno organici sempre più risicati ma questo in via generale a livello italiano ma da noi devo dire dal punto di vista della pubblica sicurezza insieme a loro facciamo sempre un lavoro molto importante quando ci sono situazioni anche più delicate come questa di grande manifestazione si muove un'intera provincia è lo stesso prefetto insomma a chiamarci e a mettere a disposizione tutte le forze di pubblica sicurezza per far sì che le manifestazioni funzionino bene quindi un grande ringraziamento per il lavoro che fanno e la speranza che gli organici tendano a crescere che quindi che i governi diano più possibilità a questi organici avremmo voluto parlare di tante altre cose con l'assessore Etienne Lucarelli però il tempo è tiranno siamo giunti alla fine della nostra trasmissione io ringrazio l'assessore per questa sua partecipazione ringrazio a voi per l'ascolto e vi do appuntamento a domani sempre alle 7 di mattina ovviamente e quindi vi attendo alla sveglia grazie per l'ascolto, a risentirci grazie per la visione